Continuano le sconfitte di rigore per il bitonto calcio e non si schiuda da un raggelante zero la casella dei punti fatti in campionato. Ma si sapeva che questa partenza d'handicap sarebbe stato il salato dazio da pagare per i neroverdi in questo incipi di campionato. All'erasmo Iacovone, mister Giuseppe La Terza impernia la difesa sui decardini Guastamacchi e Rizzo. Nel mezzo una vecchia conoscenza neroverde, il mediano di lotte di governo Max Marsigli, insieme a Frangifrutti Matute. Davanti a quadro sostituisce, e non farà rimpiangere di certo, Guaita squalificato. Il bitonto, fiero come un leone ferito, presenta nel reparto arretrato la diga Sirripetta, subito titolare l'ex casertana. Capeci architetto e Mariani geometra nel cuore della pugna. Pepe e Piarulli a supportare l'attanzo in attacco. 60 secondi e il puntero Andriese tenta un lob chilometrico poco fortunato. Al minuto 13 amnesia esiziale di Capeci sulla trequarti. Serafino si incune in area e Figliola in uscita lo trebbia. Dal dischetto l'Axir spiazza il portierino bitontino. A 5 dalla mezza punizione dell'esterno marocchino e cuoio alto senza sospiri per gli ospiti. Negli ultimi tre minuti altrettante occasioni per il rosso-blu. Stacco di a quadro largo, conclusione di Sant'Arpia e botta sempre al del 10. Esito comune per tutti, bersaglio mancato. Riemergono dagli spogliatoi i protagonisti della tenzone a ranghi immutati. La voglia di risalire la china delle Leoncelli viene presto cassata da un mano ingenuo di Di Modugno in area su traversone di Sant'Arpia. L'Axir dagli 11 metri concede il bis con un sinistro centrale. Al dodicesimo piazzato dal limite, appena decentrato a destra, percozzo fra Caldore e Palmisano, pennellata sublime di Sirri che accorcia. Il bitonto si accaparra così il predominio territoriale ed è evidente che i ragazzi di Ragno, fatto accomodare in tribuna dal giudice sportivo per una domenica e sostituito dal vice Anaclerio, provano ad ogni piesso spinto, sincronismi e mnemonici rimandi alla manovra studiata in allenamento. Al minuto 22, cross di boccia incornata del 10 Tarantino, trema solo la rete esterna. Quattro primi dopo, sul lavoro pregevole di L'Axir, altra zuccata di a quadro, però flebile. Proseguono i lavori in corso dunque nella città degli Olivi, in attesa che la stagione inizi finalmente per davvero.